Sono due giorni che completano l'organico, sappiamo che bisogna trovare gli under per completare le rose Poi dopo dipende anche dal mercato che riesci a fare con gli under, capito? Perché gli under ti toglie tante castagne dal fuoco Che poi magari i posti, se abbiamo degli under giovani, possono essere occupati Se dovesse arrivare un giocatore under, cioè nella numerazione, come posso dire? Non nel numero, tu dici mi servono tre giocatori Nella maniera in cui ti arriva un under, l'under è che